salve a tutti i ragazzi e bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video oggi iniziamo una serie di video con flight simulator 2020 ve ne avevo già parlato non ero ancora ben convinto di portarvelo perché non avevo ancora ben scelto il modo di portarlo sul canale se poteva interessare se non poteva interessare giustamente come mi aveva risposto anche il buon carlos che saluto il che ringrazio mi aveva consigliato insomma magari di fare un sondaggino per vedere un po cosa ne potevate pensare ma visto che comunque non ho diciamo questa utenza così attiva magari sarebbe passato così indifferente che comunque non magari non l'avrei comunque portato deciso un po di fare di testa mia e incominciare una serie di video un po per all'inizio per spiegare questo nello specifico che cos'è flight simulator 2020 o 2020 chiamatelo come più vi aggrada e poi vedere un po come come poterlo portare volevo portare qualcosa di un po di differente rispetto al classico un volo punto punto qualcosa che possa insomma invogliare magari le persone anche a provare a fare a replicare quello che quella tratta magari che ho fatto io anche perché ci sono alcune attività abbastanza carine che andremo poi a a vederci che insomma possono comunque essere molto molto interessanti e comprendono un volo su più tappe che varia anche in base alla durata e può essere abbastanza interessante da da portare quest'oggi però voglio appunto farvi una carrellata veloce di quel potenziale che c'è in questo flight simulator 2020 e quindi iniziamo subito intanto con dirvi che sul sul gioco per chi volesse magari unirmi come come amico mi chiamo oselot lo vedete qua in alto a destra ma lo trovate comunque magari scritto meglio in descrizione oselot con il 3 e la doppia t cancelletto 34 33 quindi se cercate in quel modo direttamente all'interno del gioco potete aggiungermi come amico e magari organizziamo qualche volo tutti insieme che potrebbe essere anche carino da fare quindi passettino indietro come poter eventualmente provare flight simulator 2020 perché diciamo che c'è in questo momento una una possibilità abbastanza vantaggiosa diciamo di provare il gioco e anche tanti altri giochi utilizzando il servizio xbox game pass di microsoft che cosa si tratta si tratta di un servizio appunto messo a disposizione da microsoft in cui ci sono un catalogo di giochi tramite ovviamente pagamento mensile di una quota che su pc diciamo anche abbastanza irrisoria mette a disposizione tutta una serie di giochi gratuitamente con cui poterci divertire e la cosa buona è che tutte le esclusive microsoft ovviamente titoli che escono anche per pc perché se escono con console che ci lo metteranno a fare su pc comunque titoli che escono anche su su pc microsoft saranno presenti sempre comunque all'interno del game pass e questo è veramente tanta tanta roba per chi non l'ha mai fatto questo servizio è per il primo mese costa un euro quindi avete la possibilità veramente costa di un caffè di poter provare per un mese tutta una serie di titoli oltre a flight simulator per pc e quindi poi eventualmente se vi soddisfa e volete ancora continuare a utilizzare il servizio se non ricordo male costa 4 euro al mese i vari rinnovi a scadenza a scadenza mensile oppure potete interrompere in qualsiasi momento anche prima della scadenza del mese anche se non ne vedo il motivo l'abbonamento ovviamente io vi invito se non siete magari diciamo non siete convinti di proseguire di andare a togliere e questo è importante immediatamente il rinnovo automatico della sottoscrizione perché lui in automatico va già a spuntarvela il fatto che allo scadere del mese automaticamente in base al metodo di pagamento che avete utilizzato andrà a scalarsi i soldi quindi visto che vogliamo evitare magari perché come detto prima non siamo convinti di proseguire sul con il con il rinnovo la prima cosa da fare veramente io ve lo consiglio subito perché poi dice sì vabbè poi lo faccio magari ci si scorda e si scalano i soldi quando magari effettivamente uno non voleva quindi una volta fatta la sottoscrizione andare subito a togliere il rinnovo automatico così state tranquilli e poi successivamente se siete convinti insomma di proseguire potete comunque riattivarlo o ripagare nuovamente rifare da capo la procedura e ripagare il il compenso insomma necessario quindi copie digitali ovviamente sia sullo store macrosoft macrosoft store o su steam su steam ovviamente il prezzo è quello pieno il game pass c'è solo su macrosoft store e quindi c'è questa opportunità come vi ho detto al prezzo di un euro di provare il titolo più altri titoli ovviamente hanno anche rilasciato una copia fisica del gioco che prevede un cofanetto all'interno sono presenti 10 10 dvd per chi magari insomma ha voglia di collezionarsi il il boxato io per assurdo me la sono fatta regalare per il compleanno ha voglia appunto di tenersi il la scatola come come punto regalo collezione eccetera e oppure è molto vantaggiosa anche per chi magari non ha una connessione molto performante perché dico questo perché con questo titolo il titolo di suo all'installazione iniziale va a scaricare sui dai server microsoft la bellezza di 159 giga se non ricordo male quindi capite bene che chi magari ha una connessione non proprio prestante può volerci diverso tempo e ovviamente da questo punto di vista i dvd vengono in aiuto perché ovviamente si vanno ad installare fisicamente già una buona parte dell'installazione e ovviamente i successivi aggiornamenti che sono usciti dal momento in cui è stata realizzata la copia fisica del gioco ovviamente quelli saranno per forza di cose scaricati dal dallo storro quindi ovviamente però vi siete risparmiati la bellezza di 159 magari avete io so 3 giga da scaricare ma volete mettere quanti ve ne siete risparmiati poi ovviamente ognuno è libero di fare cosa cosa più preferisce però io consiglio magari per chi ha la possibilità perché insomma la copia si trova anche su amazon liberamente per chi vuole rinunciare al download perché come ho detto non ha magari questa connessione prestante perché ci sono ovviamente non tutti hanno ahimè la fibra ottica può appunto ripiegare con la versione fisica e tra l'altro costa anche uguale all'interno poi ci sono anche dei manuali purtroppo scritti in lingua inglese però sono fatti molto bene che spiegano i vari meccanismi in maniera molto generale del per quanto riguarda la gestione del volo e anche un manualetto sui vari tipi di aerei presenti all'interno del gioco quindi secondo me insomma non è da sfigare tra virgolette ripiegare sulla versione box art perché comunque c'è anche del del suo perché ripeto io pure me la sono fatta regalare malgrado abbia una fibra ftth direttamente direttamente dentro casa quindi non avrei avuto problemi diciamo sul download ma me la sono fatta regalare perché è molto carina e poi ci tenevo a tenerla come collezione quindi questa è la prima panoramica ci sono però come volevo dirvi anche diverse versioni del gioco c'è la versione base versione del axe e la premium del axe se non ricordo male spero di non di non sbagliare chi cosa riferiscono tra di loro il numero di aeroporti creati dal aeroporti premium diciamo creati dalla microsoft ma nello specifico dalla software house che ha realizzato il gioco di cui ora purtroppo mi sfugge asobbo asodo una cosa del genere mi sfugge il nome e del numero di aerei che ci sono all'interno questo non vuol dire che nella versione base ovviamente la versione che trovate sul game pass per chi magari è interessato è la versione standard ma questo non vuol dire che nel mondo non ci sono gli aeroporti magari che sono presenti nella premium no ci sono comunque è soltanto cambia la come sono stati realizzati mi spiego meglio ci sono ad esempio io prendo l'esempio dell'aeroporto che ho qui vicino che sono appunto di l'uomo gli aeroporti di fiumicino e di ciampino sono non sono a prescindere di quale versione abbiate purtroppo gli aeroporti italiani non ce l'è nessuno che è stato creato in maniera premium però vi dirvi neanche londra ora vabbè non ricordo precisamente quali ci sono però comunque sia un sono stati creati comunque diciamo a mano andando a ricreare perfettamente magari avete maggiori dettagli rispetto a quelli che sono stati creati dall'intelligenza artificiale che ha lavorato su tutto il titolo sono diciamo definiti meglio fatti come si deve però ripeto questo non vuol dire che gli aeroporti che sono premium non ci sono a prescindere in nessun'altra edizione ci sono tutti tutti gli aeroporti ora non ricordo manco quanto sono massa veramente un casino veramente tanti ma semplicemente sono stati creati in maniera diciamo più generica ok quelli premium sono più carini più con magari texture migliori più particolari precisi edifici creati veramente ad hoc veramente a mano ripeto è carino tutto quello che vi pare però insomma ok anche la versione base ha ovviamente degli aeroporti premium però le varie versioni differiscono appunto da quanti ce ne sono nelle varie versioni mi pare fino ad arrivare non ricordo se a 30 vabbè ora non voglio dar numeri perché sinceramente non ricordo però insomma ogni versione differisce da un tot di numeri in più di aeroporti rispetto alle versioni precedenti ovviamente compresi anche quelli precedenti e così anche gli aerei negli aerei ovviamente sono sono uguali quindi la versione base in questo caso diciamo c'è veramente un filtro quindi la versione base se non ricordo male a 30 20 aerei scusate quella deluxe ne ha 25 che la prima non mi pare ne ha 30 o 32 insomma però in questo caso rispetto agli aeroporti se l'aereo non c'è non c'è quindi non lo avete e purtroppo non è neanche possibile comprarlo cioè non è nel ora vi faccio vedere hanno inserito un negozio uno store all'interno stesso del gioco dove i publisher di terza parte possono inserire i loro i loro prodotti e si possono acquistare però i ieri che sono presenti nelle varie versioni del gioco non sono possibili da non è possibile acquistarli separatamente quindi se volete quel determinato aereo purtroppo dovrete pagare il tutto il pacchetto ok se volete un aereo che è per forza nella premium deluxe dovete per forza pagare la premium deluxe ok ovviamente si può passare da un pacchetto all'altro nel caso in cui abbiate la base si può comprare diciamo l'upgrade per la deluxe o viceversa però ecco non c'è lo scorporamento diciamo dei dei ieri purtroppo quelli sono per le varie versioni e quelli dovete tenere e ok questa diciamo un'infarinatura generale è già passata un quarto d'ora e devo ancora farvi vedere un mucchio di cose magari andiamo un po più per gradi quindi se avete bisogno di magari avere dubbi e qualcosa potete anche scrivermelo nei commenti non non ci sono problemi da questo punto di vista vedrò per quanto mi è possibile aiutarvi quindi questa è la panoramica un po generale di le varie versioni e come poter eventualmente approcciarci al gioco per renderci insomma per intanto per recuperare il gioco ora questa che vedete la schermata principale e la home fatta anche molto molto bene mappa del mondo e la zoe la diciamo la modalità come anche dice modalità volo libero crea piano di volo seleziona volo esistente kurchevel è un evento attuale sfira di atterraggio queste credo che vadano poi a modificarsi addestramento di volo che il vero proprio tutorial ci sono una serie di tutorial dove il gioco ci insegna un po le varie basi purtroppo il titolo da questo punto di vista terminati tutorial vi lascia assolutamente liberi di fare quello che vi pare quindi ovviamente chi non ha magari neanche un minimo di dimensioni si troverà sicuramente un po spaisato perché dice ok ho finito il tutorial ma poi alla fine quindi purtroppo le varie risorse per chi ha voglia anche di approfondire per carità il questo mondo bisogna andarsela a cercare online perché appunto oltre all'addestramento non c'è nient'altro che il gioco possa insegnarvi per poter fruire a meglio del titolo so che ci stanno lavorando da questo punto di vista perché comunque la software house è molto attiva e molto attenta ai feedback della della community c'è chi ha dice insomma che abbiano rilasciato il gioco ancora in modalità beta per intanto per iniziare a fare cassa e poi fare l'upgrade delle varie aggiunte poco alla volta sinceramente a me non dispiace questa tipologia è diciamo e non vi nego che è stato uno dei pochi titoli recenti di cui avevo hype veramente lo aspettavo veramente veramente tanto e non assolutamente deluso le mie le mie aspettative anzi pensando a come potrebbe diventare da qui a n anni veramente tanta tanta roba ovviamente bisogna dimenticare di ricordarvi piccola parentesi il titolo uscirà non si sa ancora quando anche per le versioni console di microsoft quindi solo su xbox allora continuiamo la nostra carrellata di dei quadratini abbiamo le attività che scopre la prossima sfida questa poi ve lo faccio vedere e novità e feedback in cui fanno per derivare le varie aggiunte le varie le varie cose successivamente abbiamo il profilo questa diciamo una sorta di resoconto generale di tutto quello che abbiamo fatto noi qui avete avete le ore di volo totali 34 anche se pensavo fossero un po di più livello successivo allo scoccare delle 50 ore andiamo poi nel dettaglio c'è già tutta una serie di cose vari obiettivi medaglie tutto quanto che uno volendo può andare a sbloccare o per gli amanti delle varie statistiche e numeri poi abbiamo il mio hangar dove ci dà la possibilità di vedere gli aerei che abbiamo in questo caso un cesna 172 che è l'ultimo che ho utilizzato per la mia tratta ma volendo possiamo andare su cambia aeroporto cambia aereo scusate ci dà tutta la serie di aerei che abbiamo a nostra disposizione in più abbiamo gestione contenuti ci dà una sorta di di resoconto di tutte le cose che ci abbiamo installate nel caso in cui volessimo disinstallarle riscaricarle aggiornarle fa tutto diciamo in automatica però qua vi fa vedere in maniera nel dettaglio cosa c'è e cosa non è installato nel vostro nel vostro simulatore e il mio giornale di bordo è una sorta di tabella in cui fa il resoconto di tutti i voli che avete fatto da dove l'avete fatto quanto a che ore e tutto quanto insomma ogni giorno nel caso in cui facciate un più di un volo durante la giornata non necessariamente di seguito lui comunque metterà vedete 2 0 9 fatto questo volo tutto qua alla fine di ogni volo lui da questa tabellina riassuntiva che ti ti dice un po che cosa che hai fatto durante il giorno oppure se fare più di una tratta nello stesso momento magari fare tratte piccoline può insomma farvi uscire questo questo resoconto è morto molto carino insomma ci sta poi altra slide altro passaggio non slide altro sezione abbiamo come vi ho detto prima il negozio allora il negozio come vi avevo anticipato è il punto in cui i contenuti di terze parti possono vendere quello che realizzano quindi ci sono io vi ho detto che ci sono ovviamente tutti gli scenari tutti gli aeroporti del mondo anche quelli militari per quelli che sono ovviamente possibili visualizzando quelli segreti e altro ci sono tutti aeroporti di terra di erba tutti quanti cioè veramente è una cosa spaventosa però come vi ho detto prima ci sono quelli premium quelli normali diciamo generati dall'intelligenza artificiale e proprio per quanto riguarda quelli che non sono premium vengono in aiuto ovviamente quelli di terze parti nel senso che questi sono i nuovi che sono stati inseriti mandando sul contenuto ufficiale potete vedere che per esempio la orb x che è una società che crea contenuti anche per quanto riguarda altri simulatori come prepare 3d e explain ha creato per esempio l'onder city airport e voi dite c'era già che cacchiarola ha fatto ha praticamente creato in meglio le tutte le strutture intorno quindi la struttura stessa dell'aeroporto le taxi way tutto quanto che ovviamente già c'è però è realizzato non con la cura maniacale diciamo di un proprio di un prodotto ovviamente premium costa 15 euro però se dire cavolo mi piace tantissimo quell'aeroporto quello di default mi fa un po' schifo ve lo comprate 15 euro lui non installa è apposto così ovviamente se andare a guardare tutti i prezzi è chiaro che il prezzo generale del del simulatore va a aumentare per quanto riguarda il prezzo totale però è qualcosa che si faceva e si fa tuttora anche per i simulatori come preparato di o explain che sono pieni di addon e aggiunte sia free che a pagamento quindi ci sono i vari aeroporti ora piano piano andrà a popolarsi ci sono anche i vari pacchetti come vi ho detto che parlando uno magari può passare dalla versione base alla premium e alla premium deluxe che è l'ultima la premium deluxe quella più più grande come per esempio ci sono questo pacchetto sempre dell'orbi x che è abbastanza attiva a 8 euro hanno inserito degli edifici iconici di londra che mancano in londra quindi se vi piace londra volete sorvolare e vi dà fastidio il fatto che non ci siano questi edifici 8 euro avete risolto per esempio c'è tutto l'aeroporto di insbloc fatto in maniera maniacale e precisa ma lo trovate anche in maniera gratuita insieme al simulatore e c'è già per esempio degli aerei cioè il ct 187 come come aereo insomma ci stanno già alcune cosette che volendo si può si possono comprare ovviamente poi ci sono le varie opzioni in cui ci si può sbizzarire c'è una c'è una buona scalabilità per quanto riguarda il titolo da questo punto di vista e vi dico che è molto esoso per quanto riguarda il sia la scheda video ma soprattutto per quanto riguarda il processore perché comunque deve andare ad elaborare e a quindi elabora scompatta carica perché comunque sia mentre stiamo volando il terreno va a caricarsi in maniera procedurale e quindi lui tutte le volte deve andarsi a ricaricare scaricare cioè prendere dall'hard disk quindi è consigliato l'installazione su un ssd o un m2 nel caso quindi prendere i dati elaborarli scompattarli mandarli alla alla scheda video e quindi farveli vedere quindi io principalmente ho notato molto il carico sul processore ed è vi dico la verità il primo gioco in cui il mio ahimè vecchiotto i7 6700k che ho calcato a 4 e 6 inizia a starmi strettino perché alcune volte per alcuni tratti il processore è schissa come utilizzo al 100 per cento e questo ovviamente mi fa perdere frame per quanto riguarda invece la scheda video che ha una 1080 ti in 2k tenendo tutto su ultra se la cava bene anche se con l'ultimo anche insomma con l'ultimo aggiornamento anche migliorato un po la fluidità generale però se mi sento diciamo limitato per quanto riguarda il processore poi magari vedrò di modificare cioè devo dare un po una svecchiata anche al mio titolo nel prossimo appuntamento andiamo un po più nello specifico a vedere vari contenuti magari sarà un po più piccolino e poi magari iniziamo ad entrare un po nel vivo come sempre ragazzi io vi invito se vi fa piacere a lasciare un mi piace un commentino a iscrivervi al canale se non l'avete fatto la descrizione trovate i link ai social network e vi lascio ragazzi è molto importante il link a un altro canale youtube di un ragazzo che si chiama paolo è un pilota reale di 7 abilitato al 737 e che sta facendo veramente un ottimo lavoro su flight simulator lui fa anche le live sull'altro canale ed è molto molto bravo spiega veramente tante tante cose quindi per chi volesse andare a ancora di più entrare nel mondo e ad approfondire meglio le varie meccaniche e dinamiche perché io vi ripeto non so tutto ovviamente quindi non magari vi mostrerò qualcosa che è sbagliatissimo quindi non prendete spunto magari da me oppure sì se non volete ovviamente simulare alla perfezione tutto quanto quindi vi lascio in descrizione questo canale veramente ragazzi fateci un salto perché merita moltissimo e paolo è molto bravo da questo punto di vista quindi io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino qui se volete aggiungetemi anche come un amico se state già provando il kit o state giocando mi raccomando un po di serietà insomma io gioco in maniera seria per quanto concerne le mie possibilità però insomma cerchiamo di fare le cose fatte bene io come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao ciao